Con vivenza difficile tra gli abitanti di Castelvecchio di Compito e i branchi di cinghiali che ogni notte entrano nelle proprietà, provocando danni a giardini e coltivazioni. L'ultimo episodio si è verificato la notte scorsa, quando un branco di animali di piccola taglia si è introdotto in questa casa vacanza, devastando prati e vialetti. Questa notte sono rientrati un'altra volta e sono entrati di sotto la rete. Sono degli animali piccoli perché il lavoro che hanno fatto non è cinghiali grossi, perché se fossero i grossi erano problemi più seri. Un fenomeno di queste proporzioni non si era mai registrato negli scorsi anni, come ci hanno confermato gli abitanti della zona. Chi può cerca di contenere le incursioni degli animali con recinzioni elettrificate, che in qualche modo riescono ad arginare il fenomeno, ma nelle zone che rimangono fuori dai nastri, l'opera di scavo dei cinghiali è ben evidente. Niente a che vedere con le devastazioni delle coltivazioni in Mediavalle Garfagnana o con quelle dei giardini delle abitazioni lungo il parco fluviale, ma comunque un grosso problema per i residenti delle frazioni collinari, visto il prolificare incontrollato e il tentativo di parte di qualcuno di radunarli in alcuni punti, forse a scopo di caccia o di allontanamento da altre zone del territorio. Noi andando a passeggiare abbiamo trovato su in cima alla collina delle cataste di pane buttate, poi abbiamo visto anche un notevole passaggio di macchine quest'estate che passavano nella stradina e secondo me andavano a portare del pane per gli animali.